buongiorno a tutti ragazzi dopo questa ripulita ovviamente io era tutto nero ma ora invece guardate tutta la cenere che ho messo in questa busta come benvene guardate quanta ce n'è se voi non ci potete credere c'era non tutta così come pensate voi c'era una montagna una montagna enorme però guardate che cosa c'è lì in alto guardate è un elicottero mamma mia guardate lo faccio vedere mi avvicino e ve lo faccio vedere vediamo c'è vediamo dove va ovviamente c'è l'elicottero ragazzi guardate come sta viaggiando cioè io questo ve lo vorrei anche pubblicare perciò ragazzi io vi dedico un buon pomeriggio e quindi ciao